Sarà divertente. Noi pensiamo e comunichiamo per immagini tutti i giorni anche se non ce ne rendiamo conto. Conoscere i principi della narrazione per immagini quindi è cruciale per potersi interfacciare con consapevolezza alla comunicazione contemporanea. Vedremo ogni aspetto della realizzazione di un video o di un cortometraggio nello specifico, dalla sua scrittura alla sua postproduzione, parleremo di archetipi narrativi, parleremo del viaggio dell'eroe, parleremo del formato della sceneggiatura e il risultato dei nostri sforzi sarà un cortometraggio appunto. Realizzeremo un corto quindi parleremo di regia, di fotografia, di montaggio. Avremo occasione di lavorare in una location esclusiva, vale a dire il Mauriziano, che sarà completamente sotto il nostro controllo. Ma soprattutto potremo contare su una rete multidisciplinare, formata non soltanto dagli esperti che arriveranno a incontrarci ma anche dagli altri corsisti del Teatro del Cing, in aspetti di recitazione, fotografia, illustrazione, comunicazione. Persone che daranno il loro contributo al nostro lavoro per questo cortometraggio. E in cambio magari noi gli daremo una mano sul loro progetto. Non finirà qui perché questo corto sarà poi inviato in giro ai vari festival che sono specializzati in cortometraggi, così chissà potrebbe anche vincere qualcosa. Il mio nome è Alex Isabel, sono un artista multimediale di Reggio Emilia, sarò il vostro insegnante per questo corso. O per cominciare a familiarizzare con un termine che utilizzeremo molto spesso durante le nostre lezioni, sarà il vostro mentore per questo corso. A presto!